Il Tribunale di Clusone è un vanto per la cittadina dell'Alto Piano che si trova ad ospitare un'importante struttura a servizio di 52 comuni della Valle Seriana, Valle di Scalve e Alto Sebino. Il prossimo 16 settembre ripartiranno le udienze penali e la macchina tornerà a pieno regime. Mentre ancora ci si chiede se il personale sarà aumentato così come è stato fatto con i servizi gestiti dalla struttura, possiamo avere già invece qualche risposta in merito al servizio di sicurezza. L'attuale convenzione con l'Istituto di Sorveglianza Provinciale Bergamasca è infatti valida sino al 31 dicembre di quest'anno. Sentiamo questa intervista al primo cittadino di Clusone, Guido Giudici. È un problema abbastanza semplice, nel senso che è chiaro che un corpo di vigilanza ci vuole. Ci vuole prima di tutto perché poi collegati con la gestione sicurezza c'è anche tutto il problema degli allarmi. Quindi perché è tutto allarmato, sia per la situazione dei carteggi che ci sono, sia per eventuali rischi di incendi e tutto il resto. Quindi una situazione di allarmi sotto controllo che viene gestita poi dalla stessa azienda che gestisce la guardiania in questo momento. Va detto che comunque il Presidente del Tribunale sostiene che la guardiania per quasi tutti i giorni della settimana basta una persona. Però il giorno, le due mattine, che mi sembra siano mercoledì e venerdì, in cui ci sono anche un sovraffollamento per quanto riguarda il penale, occorrono due vigilantes. Noi adesso provvederemo a trovarne uno noi, cioè dirotteremo qualcuno dei nostri dipendenti perché è abbastanza pleonastico, che è un po' superfluo andare ad assumere qualcuno per due mezzogiornate. Quindi vedremo di utilizzare qualcuno dei nostri. Il costo della guardiania, va detto che il 70% del prezzo, quindi manutenzione, riscaldamento, illuminazione, luce, acqua, tutto il resto, il 70% è a carico dell'amministrazione giudiziaria. Quindi anche la guardiania e il resto dovrebbe essere a carico dei 52 comuni che compongono l'ambito giudiziario. Sono 180 mila abitanti, quindi durante l'autunno con il prefetto e il presidente del tribunale siamo d'accordo che faremo un punto e vedremo un attimino qual è la situazione e quali sono le prospettive dei costi economici della gestione, tanto per avere l'idea dove si va a parare e quali sono i mezzi più economici. Va detto che loro hanno anche una certa difficoltà per quanto riguarda la gestione amministrativa, perché lì cancellieri ce ne sono, ci sono amministrativi in numero ridotto, potrebbe il presidente del tribunale anche suggerito, vediamo un attimino e vedremo un attimino una valutazione sui casse integrati che ci sono in giro, perché come sapete l'utilizzo di casse integrati comporta con minima aggiunta economica, poterli mandare in servizio obbligatoriamente. Quindi vedremo un attimino come ci gestiamo nell'economicità e nella funzionalità.